L'amore è indissolubile finché dura. Benvenuti in quest'altro commento alla lettura della domenica che è 27esima il tempo ordinario. Si inizia meravigliosamente con l'amore, si finisce con l'amore, ma nello stile dei comandamenti e delle norme ebraiche, che comunque non sono da scartare, sono ancora valide. Partiamo dalla prima lettura, al libro della Genesi si enuncia la creazione, la seconda, perché nel libro delle origini, il libro di Genesi appunto, si classificano la creazione del nulla e la creazione già giardino dell'Eden, giardino del paradiso, dove c'è un rapporto molto più d'amicizia tra Dio e l'uomo. Per l'appunto l'onipotenza di Dio, la sua forza generativa, plasma ogni sorta di bellezza, e a un certo punto la concede proprio all'uomo. Peccato che niente gli sarà simile, niente sarà a lui complementare, per cui lo fa addormentare e dal fianco tira fuori una costola che è simile a lui, ma diverso, perché da loro due ci sarà il principio generativo della vita e della famiglia. La seconda lettura è sullo stesso filone di pensiero. L'uomo fatto poco meno degli angeli diventa il punto principale di ogni cosa creata. Siccome l'amore del padre si rispecchia nel figlio, e nel figlio c'è ogni grazia e ogni santificazione, così l'uomo è stato reso degno di grazia e di santificazione attraverso l'unigiene di tuo figlio. E qui si chiarisce la posizione non solo degli ebrei, ma anche di noi cristiani, come il padre ama tutti i suoi figli. Ma arriviamo al clube del nostro discorso con il Vangelo, e tutto questo amore creativo e generativo, tutta questa condivisione tra Dio e l'uomo, comincia a vacillare, a partire proprio dal rapporto a due, moglie e marito, uomo e donna. Qua tutti condannano la chiesa perché non permette il divorzio, considera il matrimonio unico e indissolubile, sì c'è la fedeltà coniugale, ma non si può sciogliere il vincolo matrimoniale con lo strumento del divorzio. Queste in parte sono le domande del processetto matrimoniale, ma di fatti anche noi, anche la nostra chiesa, si sta aprendo e si è già aperta all'idea che se non ci sono dei presupposti, anche lo stesso matrimonio non può essere ritenuto valido. Per cui sono tanti casi, è molto ampia la casistica in cui un matrimonio si può sciogliere. Seppur valido o lecito, può avere dei presupposti non chiari, può avere cose nascoste, o addirittura dei forti cambiamenti che non permettono più all'amore di essere portato avanti nel tempo. Ricordiamo che il matrimonio è sempre finalizzato all'amore, al bene dei coniugi e anche allo stare insieme fino all'avvento della morte. Ma dalla decisione di sposarsi a tutto il resto del tempo che va avanti ci possono essere moltissime cose per cui si può portare innanzi agli organi competenti la decisione di sciogliere il matrimonio. Non starò qui a classificare tutto, per carità l'elenco è molto lungo, ma la frase di Gesù è molto chiara. Il commettere adulterio dinanzi alla scelta dello stare insieme, il desiderio degli occhi, del cuore, della mente di volere un'altra persona è assolutamente sbagliato. Certo, la monogamia da molti, sia nell'antichità, sia nel presente, viene ritenuta come una costrizione, come una vera e propria prigionia. E come disse qualcuno simpaticamente, trent'anni di carcere non viene dato mai a nessuno e il matrimonio può durare anche più di trent'anni. Battuta a parte, qua si gioca la decisione dell'amarsi veramente in maniera, seppur non perfetta, ma con un'umanità che chiede a Dio la grazia non solo di volersi bene, non solo di generare figli, ma attraverso il bagaglio esperienziale, attraverso i tanti giorni passati insieme, decidere di essere veramente quell'unica cosa che è stato descritto fin nel passato. Non può essere l'amore una pura sopportazione, non può essere l'amore sempre giovane e fresco, senza litigi e senza difetti. Ma qual è quella realtà o quali sono quelle realtà che rendono l'amore possibile all'uomo con questa indicazione dell'amarsi per sempre? La scelta reciproca di crescere insieme, la scelta reciproca di superare il dissidio, superare l'ostacolo, la montagna, lo scoglio, il baratro, quella di creare dei ponti per il dialogo, per la sincerità e la franchezza. La realtà di tenersi la mano per sempre, qualche volta si staccherà ma poi si riunirà. Sappiamo che questo oggi non è la normalità, lo è l'esatto contrario, ma l'amore vicendevole, l'amore che solca il tempo, questo può diventare l'emblema, il principio, la luce che illumina la nostra esistenza e quella degli altri. Beh, queste sono parole belle ma parole difficili, lo so. Come sempre, vi lascio alle vostre riflessioni e buona domenica.